Oggi uomini e donne, Luigi e Sara si sono lasciati. Parla Mastroianni, punto grandissimo scoop per i fan di uomini e donne. Dopo svariate settimane sembra sia pronta a venire a galla la verità sulla presunta crisi e o rottura tra Sara e Luigi. A svelare qualche dettaglio in più su questa contorta storia d'amore è una lettrice del blog Newswed. Una ragazza ha raccontato di aver incontrato Mastroianni in un locale di Roma, più precisamente a Ponte Miglio. Mentre era in compagnia del fratello di Giordano Mazzocchi, la scelta della affifella pare abbia risposto con decisione ad una precisissima domanda. Delle persone sembrano aver chiesto al bel siciliano come stesse andando con la sua donna, e di fronte ad un quesito simile, il diretto interessato pare abbia deciso di non restare nuovamente in silenzio. Il blog Newswed ha riportato per filo, e per segno il racconto della persona, che ha incontrato Luigi. Secondo quanto riportato dalla FAN, quando gli è stato chiesto come stesse andando con Sara, Mastroianni pare abbia risposto urlando. Mi sono lasciato raga. Chiuse virgolette. In ogni caso, sui social continuano a restare entrambi in silenzio. Nonostante abbiano deciso di non svelare a nessuno cosa stia accadendo, sia l'ex corteggiatore che la bella napoletano continuano ad essere super seguiti e soprattutto super attivi sui social. Al momento, tutti gli indizi arrivato sembrano confermare fermamente la rottura di cui si sta tanto parlando ultimamente. Nel frattempo, la Fifella ha deciso di prendere le distanze da alcuni screen apparsi su Instagram, che riportavano il suono e nome e cognomi. Uomini e donne. Sara prende le distanze dalle voci contro Luigi, . Sembrava che Sara avesse risposto male sui social a qualche fan di Luigi. Dopo gli screen apparsi su Instagram, la diretta interessata ha chiarito la sua posizione, garantendo di non aver mai detto nulla di simile. .